Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come aggiornare driver audio grazie al driver easy in descrizione ti ho lasciato il link che ti porterà sulla pagina per scaricare e installare il programma driver easy lo scarichi c'è il piano quello gratuito quindi in questo caso quando andremo a scaricare il nostro driver ci metterà un bel po' perché questa qua è la versione gratuita quindi in questo caso se devi aggiornare qualche driver puoi aggiornare qualsiasi driver grazie a driver easy e se hai l'aggiornamento pro puoi scaricarli e installarli automaticamente senza problemi e riavvia il sistema ovviamente per risparmiare soldi possiamo farlo noi stessi manualmente quindi scaricate il programma driver easy fate la scansione sul vostro pc andate su aggiorna andate un attimo su gestione dispositivi quindi tasto destro qui sopra gestione dispositivi se ci sono dei triangolini gialle vicino a controller audio video e giochi vuol dire che non funzionano oppure sono obsoleti e dobbiamo aggiornarli se invece dobbiamo aggiornare i componenti software per il realtech audio io ovviamente devo aggiornare questi qua quindi realtech audio universal service quindi devo aggiornarli tutti quindi come fare tasto destro sopra aggiorna driver cerca i driver nel computer eccolo qua quindi fermiamoci qui e passiamo adesso a driver easy quindi una volta fatta la scansione vai su aggiorna cerchi così il tuo aggiornamento che devi fare ed eccolo qua il mio realtech audio universal service clicca su aggiorna crea manualmente vai continua installiamo manualmente l'aggiornamento fai continua e partirà così il download come ho detto il download ci metterà parecchio perché questa qua è la versione gratuita una volta così scaricato l'aggiornamento ti dice di aprire così una cartella quindi apri la cartella ed eccola qua ti fa aprire una cartella con tutti gli aggiornamenti che abbiamo scaricato ed eccoli qua quindi come fare clicca qua sopra sulla barra qui della cartella fai copia e inserisci l'aggiornamento sul tuo driver ed ecco come si aggiorna un driver manualmente fai incolla ed eccolo qua faccio avanti installazione dei driver ed eccolo qua Windows ha completato l'installazione dei driver per questo dispositivo e facciamo chiudi quindi stessa cosa con altro dispositivo come il realtech PCA che sarebbe e se lo trovo sta eccolo qua schede di rete faccio su aggiorna faccio crea manualmente faccio continua ed eccolo qua e mi sta scaricando così l'aggiornamento come ho detto questa è la versione gratuita e sta andando a 55 kb al secondo con la versione pro fai tutto scarichi e installi automaticamente senza che devi farlo manualmente ok una volta fatto clicca su installa manualmente e fai continua e ti apri così la cartella stessa cosa come abbiamo fatto con l'audio questo è per per farti un esempio della scheda sulla scheda di rete copia aggiorna driver circa driver e computer e lo incolli qua e fai avanti e installi così il tuo aggiornamento manualmente tutto qua quindi se questo video ti è stato utilissimo su come aggiornare i driver audio e farli funzionare sul tuo pc iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao